Si decide di non decidere, navigando a vista come da tempo succede. La Saleretane è un arcipelago formato da isole ben distinte e distanti tra loro. Naufraghi che cercano una zattera su cui salire per salvare se stessi, il proprio ego, la propria immagine, anche i propri diritti acquisiti. La Saleretane è ultima, affonda, naspe, con la testa sott'acqua, ma nessuno è disposto a tuffarsi nel mare in tempesta per provare a salvarla. Questa mattina al Mere Rossi non c'era il presidente Ervolino, che ieri sera ha evitato di incontrare gli ultras, mandando avanti come ambasciatore il Mitia di Milan. Eppure, solo qualche giorno fa, il patrono aveva tenuto a rapporto la squadra. Non c'era neanche il DS De Santis, segnalato a Roma per l'ennesimo summit col presidente, che tiene in caldo Pasquale Foggia, a riduce dall'ennesima notte sulla graticola, come se in campo fosse andato lui. No, di certo, in campo va la squadra, ma va anche l'idea, la mentalità, il senso di unione e di appartenenza, che ai calciatori dovrebbe essere trasmesso dal presidente, dal direttore sportivo e da tutti gli altri dirigenti. In campo va la squadra che è stata costruita in estate, principalmente al risparmio, senza margini di manovra e con tanti paletti, condizione che aveva suggerito a De Santis di dare le dimissioni, respinte dal presidente che però non ha voluto sentire ragioni. Il mercato doveva essere impostato su scommesse, su calciatori seguiti sì, ma non inseriti nella lista delle prime scelte, perché dal lavoro dell'aeroscouting, che da mesi non è più autorizzata a viaggiare per cercare talenti in giro per il mondo, erano emersi almeno 100 nomi, nessuno dei quali ha provato per costi o per altri motivi dalla proprietà e dalla schiera di consiglieri di cui si circonda. La solità non è un'anima e la cosa non stupisce perché riflette l'immagine del club, non c'è molto altro da dire. La squadra ieri avrebbe dovuto mangiare l'erba ed invece è entrata in campo nervosa, contratta, non pronta, modulo ed uomini, quindi le scelte di Inzaghi non hanno certo reso come negli auspici del tecnico, che ha sicuramente avuto una lettura non molto ispirata. Resta il rammarico per la tardiva reazione finale, fatta di nervi e palloni lunghi e non certo poggiata sui dei di gioco, che avrebbe potuto portare in note quanto meno il pari. Sarebbe stata la giusta punizione per un Bologna presuntuoso, che ha pensato solo a distigare nella seconda parte della ripresa. Ecco, questo è ciò che brucia di più. Vedere squadre di onesti pedatori che si permettono il lusso di ridere, provocare, passeggiare sulle macerie di una squadra che non riesce a dare un senso a questa stagione. Questo brucia i tifosi, questo dovrebbe far divampare un falò nell'anima del presidente Revolini, rindurlo a mettere mano alla tasca per dare forza ad Inzaghi, l'allenatore che aveva voluto, e consentirgli di poter lottare ad armi pari con le altre rivali. Si sgombi il campo da alibi, equivoci e falsi miti, si guardi la classifica, si provi un po' di vergogna dinanzi ai freddi numeri e si dimostri quei fatti che si vuole invertire alla rutta. La richiesta degli Ultras e quella odierna del centro coordinamento e di un incontro con la proprietà sono la testimonianza del fatto che la tifoseria soffre e continua nonostante tutto a sperare. Ora più che mai tocca alla società dare risposte forti, tirando fuori gli attributi e le risorse finanziarie adeguate. La Serie A va salvata a tutti i costi e sicuramente non si può arrendersi ora senza nemmeno provarci. Servono però decisioni forti e coerenti.